Salveci Urmaglia e bentornati in The Witcher 3 Allora, off screen, cioè giocato senza registrare, ho salvato, ho liberato questa piccola zona con la Madonna, o il santuario cos'è, non ho capito E in pratica ora abbiamo accesso a un erborista che offre diverse tipologie di erbe che possono servire poi per fare la chimia, le pozioni e tutto il resto Quindi può sempre servire, sostanzialmente abbiamo liberato la zona Arrivederci I contadini ora hanno preso possesso della zona E sono tutti contenti Va bene Torniamo a noi Missioni Venne fuori che Geralt non era il solo a cercare una persona cara al bianco frutteto Witcher notò l'annuncio di un contadino che cercava il fratello, partito da casa per combattere contro Nifgar Le forze del nord e gli oscuri si erano scontrati vicino al villaggio natale dei due E da allora il contadino non aveva più avuto notizia dei fratelli Partiamo Roach Poi, Roach e Rutile Non ho ancora ben capito Scendo a basso Parliamo, parliamo Do that often? Talk to your dog It's my brothers, Bastians But Bazo Hai cercato sul campo di battaglia? No, direi di no No, direi di no Dai Fine I'll help you Just Been a few days since the battle Chances we find your brother alive or slim Very slim I would've thought But I want to find his body at least So Bastians don't rot there in the sun with the black ones The black ones Meet me on the hill, overlooking the battlefield We'll move on together from there Va bene Va bene Heila Arrivo Aspettami Aspettami Quindi Vedo che per la parola Frutto Caro Dune You're here, good Bastian His body must be here somewhere Among countless others Want to examine them one by one? Could take a while You needn't friend? The recruits from White Orchard To paint a small flower on their shield So as to be able to spot each other in battle There were just a few of them We look for the flowers We'll find Bastian quick No offense But Many soldiers dropped his shield Especially if he was on the losing side Giusto If we find the shield alone Hassad will catch the scent and lead the Bastian Come on As soon as we get this done the better A volte gli obiettivi ti indirizzeranno in un'ampia zona Nella quale non sai esattamente dove si trova ciò che cerchi Va bene Pagini di manoscritto Farza 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 Bastard Vai Altri? Oggetti che spiccano Fiori Il figlio del mio vicino Facciamo un po' trenta Guarda, che parte Altro scudo, eccolo qua Ah, la pezzi si è bruciata Può essere difficile dire, lo so, ma Potrebbe essere lui? Bastion era grande, broad-shoulded Questo sembra più piccolo Ma, magari è il foglio che ha fatto L'ho trovato! Hissar ha chiamato! L'ho sentito! Vieni! Se vogliamo le tracce del cane... Beh, cazzo è andato Beh, cazzo si è messo a correre il cane Ah No, forse là è un nemico Ma cazzo si è messo a correre il cane il tenente chiede di defecare sull'autore i ballistabolti all'interno e tutto ciò che poteva dire è un soldato con un coltino non farà sul battlefield ora c***o è un ordine potete credere? il cretino stop! tu mi ha ucciso! i miei rinchi! questo è necessario un tourniquet ma prima voglio raccontare cosa sta succedendo bastian ha il... ha il guardia che ti ritrovato? no ha salvato la mia vita ho avuto un corto alla mia parte e poi ho scoperto in la cuota non potremmo vedere niente rossinia mi trovi mentre scavò sull'autore i miei piedi e così eravamo un ucciso un ucciso un ucciso un ucciso un ucciso un ucciso io ti prendo casa ci sono ci sono non ci lasciare rossino in questo caso si muove e non può tornare a casa è deserto si prenderanno lo sguardo e cosa se lo sguardo con noi? si prenderanno tutti la mia laia non laia laia sta per caspita questa è la bella scelta se non fosse per lui bastien sarebbe morto Sì dai, questa è una scelta importante, io lo aiuterei. Bravo ragazzo. Grazie caro. Missione completata. Sì. Dobbiamo andare in direzione. Ma ne abbiamo finito. Caro cavallo. Come here. Go, go. Slow now. Anche perchè qua si vola. Che è sto posto? Viaggio rapido. Ecco, vediamo un po' se riusciamo ad andare direttamente, che facciamo prima. Così. Mercante, allora vediamo un po' di fuffaglia. Siamo ancora. Grazie per salvaremi. Le persone dicono molte cose sui dottori, ma io sempre conosco che tu sia un griffone. Quindi hai riuscito a salvare alcuni prodotti? Sì. Ma ho aspettato il riparo del mio wagon. Quando il tempo passi, le mie perdite crescono. Bravo ragazzo. Dovete qualcosa? Lascio farlo a half free. Vediamo cosa puoi offrire. Puoi aver guardato il tuo stock. Pelle di coniglio, l'alcolestra, spirito nanico, bottiglia d'acqua... Dobbiamo andare dal bottegaio prima. Dal nano. Vediamo. Vediamo cosa puoi realizzare per me. Resistenza al perfogamento, resistenza alle percoste e resistenza ai fendenti. Io quasi quasi me la prenderei. Vai. Arrivederci. E a questo punto me la metto. Zacc. Torno a parlare con il tizio e gli rivendo... Gli rivendo... Ma che bello che sono. Gli rivendo questa. Zacc. Ciao. Fordyball. Che bello che sono. Molto. Ci sono. Faccio. Ci sono. Ci sono. Ci sono. Ci sono. profilo basso, caro Geralt Geralt e b*** Cosa c'è il sogno? Tu doni aiuto il sogno, a te lo soffi di aiuto. E tu non ti fai la morte di Dio! Tu non ti fai la morte di Dio! Tu non ti fai la morte di Dio! Cosa! Di me, B! Cosa! Haiya. Haiya. Riconosce questo medallion? Siete lo che significa, riuscire! Hai bene? si, si va bene allora io direi danno da fuoco a tutti quanti così cominciamo subito a chiarire la situazione posso bastardo bastardo chiarita subito la situazione oooh ah proprio così si, ne abbiamo parlato pure come on let's go eh eh hanno toccato loro per prima cioè mettiamo le cose in chiave eccalla e questa chi è? oooh l'excusi, l'excusi non ti cambiarono un po' bene 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 guardare la non ci sono la scusate non ho aspettato di guardare per a come si 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 se si un minimo base perché vizima we can talk here some charming orchards nearby bloom even so you almost can't smell the corpses attempting proposition sadly i must say no you see someone awaits you in visima someone who doesn't like to be kept waiting emperor emir var emrys or to those on more intimate terms with him Andiamo a trovarlo allora Che non può rifiutare Non posso rifiutare Non ho fatto Ma potrei aver Cosa ti ha offerto? Qualcosa di grosso? Mi chiedo che cosa ti abbia offerto Non è una buona offerta Non è una buona offerta Non ci sono molte cose Che ti ha dato la tua libertà E anche più persone Che più spettacolo Che più spettacolo Che più spettacolo E qui ci si dividi Sì, mi ricordo Grazie per la tua scuola, Fesimir Ci vediamo Ci vediamo Ci vediamo Come sei il tuo cuore? Swift? Non posso rispondere? Perché ti chiedi? Mi chiede di tornare dietro di città insomma la situazione non è delle migliori salute bye bye chiedi sei veloce poi cammini lungo video lunga parte mi sono svegliato ai ai oh 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 situazione cattiva che facciamo? ecco che bella posizione impressiva che c'è tra la mia questo è andato dai 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 dice che è molto forte bella bella però però e questo l'abbiamo capito vizima e questo l'abbiamo capito nooo c'è da ridere un sacco l'abbiamo capito l'abbiamo capito l'abbiamo capito come se fosse svegliato l'abbiamo capito l'abbiamo capito l'abbiamo capito con la mia l'abbiamo capito l'abbiamo capito l'abbiamo capito una patatina fritta oppure la mia barba ha qualcosa che non va non è ma non ho i pedocchi e tutto ma anche si 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 un po' pericolosa è una cosa come va? preparazioni per l'audience procedendo si general il gentleman sarà più o meno presentabile chi è questo è un barber anche? non ma ma vranvore ma vranvore 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 l'eskorto sono le miei tutti tutti sono sono perché non non sono l'abbiamo a che davvero chiedo cosa succede l'esterno potresti mi ti hai tempo e un'eskorto ah andiamo a capire cosa risponde gli tuoi uomini sono morti in battaglia come spesso accade a soldati una caccia selvaggia li ha uccisi da uno i tuoi uomini morti in battaglia come i soldati tendono a vedo che il loro il loro non ti preoccupare davvero vero ma credo che il loro il loro invadono non ti preoccupare Nordrace possiamo lavare 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 ma insegnare le mani questo sarà un sul culo ora i tuoi uomini possono vestire sbagliatezza purtroppo non ho ricevuto esattamente mesurazioni se i tuoi uomini ci sbagliate il nostro cuore qualsiasi colore pur che sia nero dove sono i miei vestiti vabbè 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 vestiti e parla con il ciambellano questa è la femminuccia questa è la femminuccia fanno cagare tutti fanno cagare tutti fanno cagare tutti sono indeciso terza dai questo qua quindi mi devo vestire che bello che siamo siamo troppo belli voilà sono bellissimi se l'outfit soddisfa il gentleman si si va bene va bene dai facciamola a fedoncio si nofgaard è una parola quindi cosa ora potremmo non bisogna la complexione è sufficiente non è sufficiente il gentleman è stato per il il di il ha che palle sicurati pure non sono un bifoico so come ci si inchia dai ho un po' ho un po' ho un po' ho un po' che palle questo signore è come potresti sbagliare a una un cedera in un per una strada non al nilfgaard aprito ufficio mani tencero mani dommato pin sanguino petto but we've learned to expect less of north links dai andiamo forza che mi è già sottotre quarti di minchia the gentleman will address the emperor only when asked to and using the appropriate title I see the gentleman is in the mood for jests I fear the emperor might not share his disposition your majesty will suffice spoken loudly clearly con immenso rispetto no problem posso scendere bisogno scendere vedete cosa c'è giù vedi si può scegliere si può pantaloni da caccia la caccia selvaggia bloccato peccato inguento vabbè qualcosa abbiamo recuperato andiamo a vedere cosa vuole l'imperatore da noi dai forza eccoci caro imperatore no ancora presto eccolo in grimi e art kerzer daiffen aden in karn eb marvut emir var emreis ti inchini dai inchini dai inchiniamoci facciamo i bravi può servire che lingua parla tedesco questo i thought you bowed before no man and didn't want to disappoint the chamberlain for friends and so summon me to reminisce about the good old days so silence my daughter so reala she's returned and she's in danger the wild hunt pursue her you will find her and bring her to me perché io how many men in your army 20.000 30 so why me you know why because she trust you she trusts me yes so tell me why you're looking for doubt it's about making up for all those last years for reasons of state as always enough of this banter you will agree regardless if for no other reason than because i shall pay you more than you customarily receive for a contract considerably more i need information not motivation siri leaves few tracks should be hard to find my core of spies will help you count on them and my army should the need arise you're not who will tell you the rest this audience is finished mereride mereride musically please be close there are many honorable guests in the palace whom the gentleman disgustes need not bother this guests need not bother she shouldn't be fast i don't have to complain oh oh a厨ge Juan and it's past I'm in vatke calm yourself what greetings do you know who you're talking to you Un folio! Oh, that's just perfect! Eh... Un folio! Oh, that's just perfect! Is the gentleman not in a hurry to see the sorceress? Hеmmmmm... Dovrei avere fra di di vedere la maga? Stanno facendo questi qua, costruiscono... ...una scarinata, ne stanno facendo... Véis'ないzvah, Nebgrat? Ja... ah... no... RADSLIDEN ECH ENECHT ES THUN ES SAUR AN NEINFIRE Cazzo c'è da guardare? Cazzo c'è da guardare? Cazzo c'è da guardare Ti tiro un pugno Ti tiro un pugno Maga Aspetta, stai a parlare con questo Stai a parlare con questo Salve Non c'è da fare Sì, arrivo, arrivo Arrivo E c'è qua Arrivo Vale Andiamo ciompellando Entro Cosa abbiamo gli introdì qua? Ma c'è una bambua Ma c'è una bambua E' stai a parlare Svegli cosa? Ho scritto il rapporto Nei necessitare solo di preparare un draft Invece Se lo spegne Si è stirpi reali del nord Allora va bene Non è la fiana Corriamo un po' Vieni fair Che sono figo eh D'acqua La proposta D'acqua E' la proposta D'acqua Ma c'è una proposta D'acqua Ma c'è una cosa Ma abbiamo Ma c'è una cosa D'acqua Ora Entriche Come ho visto In amir C'è una proposta E' sembra Che ci siamo Bella patata Oh Quindi ora sono i nostri agenti Già Come è cresciuta She's grown up She's grown up It's been years since you trained together at Kaer Morn A great deal has changed You haven't Not a bit I missed those awkward compliments of yours Queenie ti spogli But let's focus on Ciri Alright? No Right Amir said the wild hunts after her I'd find that hard to believe Before what happened yesterday How did they track us down? Because of me You see I've spent months searching for Ciri Using locating spells Haruspisi Geomancy Anything really I knew the wild hunt might sense it Perhaps you'll find me But I thought I'd trick them Well Guess you were wrong What 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 Hmm I've sensed them on my trail Hunting me for some time If not for you and Amir's soldiers They'd have gotten what they were after I can't risk another encounter like that It's time to put away the magic Turn to more traditional methods To the best tracker I know Eccomi Sesso E' solo qua You must find her Geralt Before the wild hunt does Cosa vuole la caccia selvaggia della Ciri The wild hunt What could it want from Ciri I've no clue Geralt Might have written them to ask But I don't have their address Spiritosa I know as much as you do It must be about her blood Her gift As for what the hunt wishes to do with that gift I I prefer not to think about it really Okay So where's Ciri been seen exactly? Dove è stata vista Ciri? In two places Velen and Novograd The trail in Velen is most promising You should make that your first stop Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads One of the Emperor's agents He should get in touch with you That's it? No passwords Secret handshakes None Sorry to spoil your fun Your boyhood fantasies about the crafts of the trade Buffy All we have in Novograd are unconformed reports Rumors But there you will have the help of our mutual acquaintance Triss Merigold Apparently she's got a cozy flat on the main square Sure she'll be delighted to see me What about you? What will you do? I shall sail for Skellager There was a magic explosion there recently Blue half a forest down I believe this had something to do with Ciri I'll be in care trolled Join me there once you've learned something Va bene Abbiamo un piano Perché non mi hai contattato prima Andiamo sul rimorso Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things I'd heard you and Triss made a great couple Yann I'd lost my memory Really? That's your excuse? Let's drop it, alright? It's not what you think Or it helped me understand how much I love you I don't wish to hear it Any of it I think this means we need to split up again Not my preference, but I understand The clock is ticking It is indeed So why don't I teleport you to Velen And get you there at once? Not gonna happen I'll go on horseback As soon as I can get changed Is it your way? Oh and... You really look quite dashing in Black Velvet Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it Good luck, Yann Same to you And if you wish to learn what's happened in the world While you and Vesemir roam the wilderness Talk to Ambassador Vahatra That's him over there And Geralt I know it's wartime But try not to be a hero, alright? Just check those leads and come back to me In one piece It's fine I should be waiting I should be waiting . . . . . . . Cara Yenifra Due Voglio venire anch'io Voglio venire anch'io Niente Volevo venire anch'io Beh è una bella patata C'è poco da fare